Cominciamo subito, onorevole, con una questione molto particolare e sentita in questo periodo, cioè la chiusura indiscriminata delle scuole. Secondo, peraltro, un recente studio non sarebbe quel luogo famigerato di contagio tra i ragazzi. Che ne pensa? Io credo che gli studenti stiano pagando il prezzo più alto di questa pandemia e rischiano di continuare a pagarlo, perché anche il recente studio, quello che è uscito in questi giorni, testimonia quello che noi diciamo, il Movimento 5-16, da sempre. Cioè le scuole sono un luogo di contagio inferiore rispetto al resto del paese. Nelle scuole l'incidenza del contagio delle scuole è molto più basso rispetto al resto. E quindi noi abbiamo sempre portato avanti il principio che le scuole debbano essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire, come sta avvenendo un po' in tutto il mondo e in tutti i paesi europei. Quindi questo ulteriore studio non fa che continuare a dimostrare, a testimoniare quello che noi in realtà diciamo da sempre e che vogliamo che il governo porti avanti. Lei peraltro ha dichiarato in questi giorni l'importanza di riaprire e di permettere la didattica in presenza ai ragazzi e ai bambini di infanzia primaria, ma anche dei nido. Come mai? Perché i bambini più piccoli sono... Allora, per quanto riguarda i nidi e la scuola dell'infanzia c'è un problema anche di sostegno alle famiglie. È un problema il fatto di non poter mandare i bambini a scuola e non poter mandare i bambini all'asilo. Sono state istanziate le risorse con l'ultimo decreto sostegni per i congedi e per i bonus babysitter, ma non è sufficiente. C'è un problema di socialità per i più piccoli. Per quanto riguarda la scuola primaria, oltretutto c'è il problema della DAD, la didattica a distanza, che è molto più problematica appunto più sono piccoli bambini. I bambini della prima, della seconda elementare hanno delle difficoltà oggettive nel portare avanti ovviamente la didattica con il computer. E quindi c'è un'oggettiva situazione critica che deve essere affrontata. Per noi è importantissimo, imprescindibile, la riapertura delle scuole, soprattutto partendo appunto dagli asili, scuole dell'infanzia e scuole primaria, il prima possibile. Crede ci sarà anche un'accelerazione per medie e superiori? Anche su questo, noi è quello che chiediamo e auspichiamo che il governo faccia. Anche bisogna fare il possibile per riportare tutti i nostri studenti a scuola, partendo dai più piccoli, ma non solo limitandoci ai più piccoli. Perché anche lì noi abbiamo gli studenti e le superiori che in tantissimi casi non vanno a scuola praticamente da un anno. È una situazione questa che non può continuare, non può perdurare, perché anche dove hanno riaperto, hanno riaperto al 50%, lo sappiamo benissimo. Hanno riaperto a Macchia di Leopardo, in alcune regioni sì, in altre no. Ci sono regioni dove purtroppo a causa del comportamento sconsiderato di alcuni presidenti di regione le scuole non hanno mai riaperto di fatto e quindi bisogna intervenire anche per riportare i più grandi a scuola il prima possibile. Nel DL sostegni non c'è alcun riferimento, potenziamento, diciamo, di risorse per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i mezzi pubblici che potrebbero contribuire a uno smistamento dei giovani che vanno a scuola. Come mai? Perché le risorse ci sono già state, sono state già date tante risorse alle regioni per quanto riguarda il trasporto pubblico, il trasporto scolastico. Centinaia di milioni dati dal precedente governo. Quindi io non credo che sia un problema di risorse, francamente. È un anno che discutiamo dei trasporti come l'anello debole, la criticità per cui noi non possiamo riaprire le scuole, soprattutto le superiori, perché i trasporti pubblici incidono soprattutto su quello che è la mobilità dei ragazzi, dei nostri studenti, delle scuole superiori. Credo che sia arrivato il momento di riaprire le scuole. I problemi, se c'erano, mi immagino che siano stati risolti perché sono stati istituiti anche i tavoli dei peri prefetti proprio per risolvere queste criticità. E quindi non c'è un problema di risorse, ma c'è un problema di operatività. Ecco, le regioni risolvono i problemi e riaprono le scuole superiori appena possibile. A proposito anche delle ricadute psicologiche che questi adolescenti, ma non solo, hanno, restando a casa, sempre piantonati dinanzi ad un pc, tablet, eccetera, i dati danno una diffusa depressione e ansia tra questi ragazzi. Che si può fare per aiutarli? Anche lì questo è un altro grande tema di cui si parla troppo poco. Noi leggiamo gli allarmi che molti psicologi e l'associazione di categoria stanno lanciando. Ascoltiamo gli studenti stessi. Noi abbiamo udito gli studenti, l'associazione degli studenti in commissione proprio per affrontare questo tema e tutti quanti lo stanno dicendo. Rischiamo che ci sia una generazione o più generazioni che stanno vivendo dei disagi psicologici senza precedenti. E lì bisogna intervenire. Bisogna intervenire per i prossimi mesi, bisogna intervenire riportando, ad esempio, aprendo le scuole, l'estate. Anche su questo il governo sta lavorando per riportare i nostri ragazzi anche d'estate a scuola con attività che si possano svolgere anche all'aperto durante il periodo estivo. Bisogna ricostruire la socialità e lavorare quindi anche non soltanto per le prossime settimane, ma anche per i prossimi mesi e per il prossimo anno scolastico. L'assistenza psicologica deve essere un elemento importante su cui insiste, su cui lavorare per i prossimi mesi. Cosa si sente di dire agli insegnanti che molti, insomma, dei quali hanno deciso di rinunciare anche alla vaccinazione o quelli che invece l'hanno già ricevuta alla prima somministrazione e si sentono delle cavie da laboratorio? Cosa si sente di dire loro? Guardi, lo dico siamo perché io sono un docente, quindi mi sentirò sempre docente. Dobbiamo affidarci alla scienza, a quello che dicono le istituzioni. Io poi le riporto un caso anche personale perché anche mia moglie è una docente e ha fatto il vaccino a AstraZeneca proprio in quei giorni in cui uscirono le notizie degli eventuali effetti collaterali che poi sono stati smentiti dall'autorità. Ecco, io credo che dobbiamo dimostrare la nostra totale fiducia nelle istituzioni dimostrandolo praticamente e sono convinto che il corpo docente risponderà alla grande andandosi a vaccinare e così tornando a scuola ancora più in sicurezza di prima. Grazie a tutti.